Progetto Interschool arriva anche nelle università con il domandone. Oggi parliamo di parentele e vediamo come se la cavano i nostri ragazzi che stanno facendo i test d'ingresso. La figlia della sorella di mia madre è mia. Facilissima. Una figlia della sorella di mia madre. Quanto tempo ha fino a domani? Non ci sono opzioni. Io proprio non so i gradi di pranzo. Allora, la figlia della sorella di mia madre, cioè vuol dire che io ho una madre, lei è una sorella, la figlia. Cosa mi viene? Cugina. Cugina. Lo sapevo, era troppo timido per dire. Manifaccia il piacere. La madre della sorella di mia moglie è mia. La madre della sorella di tua nonna. La madre? La sorella? Cognata. Cognata? Cognata. Ci sono i gradi nelle cognate? Andiamo bene, proprio bene. La madre? Della sorella? Di mia moglie. Perché l'ha detto lei? No. Sì, sì, i soldi. Sbaglierebbe comunque. No, tu sei d'accordo. Con la sorella? Direi pure io suoi. Inquadriamola. La risposta è santa. Non l'avevo detto però di partire con te. Cognata. Soda. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Chi è per me? S'attento. La madre del figlio della madre di mio figlio. La madre del figlio. La madre del figlio del fratello di mio figlio. Non c'è capito niente. La madre del padre della madre di mio cugino. Chi è per mio cugino? La madre del padre della madre. Quindi? La bisnonna. Bisnonna, tu che dici? La madre. Nonna. La trisavola. La madonna. No? La madre. Nipote. Chi è per mio cugino? Nipote. Nipote. La madre del padre della madre di mio cugino. Chi è per mio cugino? Cugino. La madre. Cugino. La madre. La madre. La nonna. Liberate i cani! La sua cera di mio genero. Chi è per mio genero? La sua cera. Siamo d'accordo? Sono di pepardo figlio. E' facilissimo questo. Mentre la sua cera di mio genero. Chi è per me? Questa è più difficile. Per me? Mio genero. La sua cera. Madre. Aspetta, prima. Eh? Madre. Mia madre? Ok, tu che dici? Allora, la sua cera di mio genero. No, moglie. Moglie? No, non ti viene niente a te. Niente. Ma che cazzo stai a... Il padre di Mario ha tre figli. Qui, qua, eh? E' Mario. Mario? Mario. Oh, Mario. Oh, Mario. Sì